Campioncini, piccola premessa, fa un caldo allucinante quindi in sottofondo sentirete i ventilatori Ma comunque benvenuti a vedere questo nuovo video Oggi creiamo sicuramente la vostra squadra perché ho ricevuto, sto ricevendo tantissimi commenti in questa serie con le vostre super squadre OP E caro Bon, Linun, tu verrai eliminato, sembrava quasi un Linun Shadow ma non l'è Comunque, campioncini, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Perché tanti di voi stanno guardando i miei video e ancora non sono iscritti, quindi mi raccomando iscrivetevi In questo nuovo episodio ragazzi andiamo in esplorazione perché vi ricordate che nello scorso video abbiamo sfidato Steph all'interno della sua palestra hyper OP Questa qua dove attualmente adesso non c'è nessuno ma sto fluttuando su dei blocchi invisibili Da quando ci sono dei blocchi invisibili? Aiuto! Ma che succede? Ma comunque non è questo l'importante, l'importante era che abbiamo sfidato Steph con la nostra squadra ufficiale Il nostro Charizard Shadow si è fatto valere tantissimo, guardate quanto diamine bello Mi scrivete nei commenti qual è il vostro Pokémon preferito E ho detto Shadow ma in realtà è Shiny Dannazione, il mio Charizard Shadow per ora è sparito completamente Ma quello che volevo mostrarvi, campioncini, è che dallo scorso episodio è spawnata questa Una sfera nuova all'interno dell'oceano della Pixelmon Abbiamo quella dei Pokémon Paradosso, abbiamo poi quella dei Pokémon Shiny e dei Pokémon Shadow E oggi abbiamo questa, oltre a quella dei Pokémon radioattivi Guardate come sono una l'opposto dell'altra e questa ancora non l'ho esplorata Andiamo ora, in questo momento ci tippiamo e voglio capire se è fatta di Smeraldo Abbiamo dei nuovi Pokémon da esplorare in questo episodio E sono tanto curioso, quindi ci mettiamo un po' di pepe e attendiamo un attimino Perché innanzitutto il mio team è da curare dopo l'ultima battaglia incredibile che abbiamo fatto con questa squadra Curiamo tutta quanta la mia squadra e mentre la curiamo Scrivete nei commenti l'hashtag sonouncampione per essere salutati in un mio prossimo video Anche perché grazie a questo commento abbiamo Michele che ha costruito la sua squadra del cuore per questo episodio Adesso andiamo ad analizzarla assieme Abbiamo Primal Graudon e Primal Kaiogre che sono entrambi qua, ottimo Poi abbiamo direttamente in squadra Oh Oh Rainbow, molto molto potente Raiquaza Shadow che è qua davanti ai nostri occhi Solgare Lucente e per concludere l'ultimo Pokémon speciale che abbiamo catturato Il nostro Super Gyarados radiattivo L'avete subito voluto mettere in squadra Infatti il campioncino aveva un po' di mi piace al suo commento Sono felice, quindi qua sotto nei commenti commentate con la vostra squadra del cuore che vorreste costruire Dov'è? Gyarados, vieni da me per favore, andiamo Ma ricordiamoci che se abbiamo una battaglia da fare e soprattutto con un boss ultimate ci serve avere il nostro team ufficiale Nel caso di una cattura invece utilizzeremo questa squadra qua in particolare Prima però di ritornare nella zona dello smeraldo della Pokéball mi ricordavo di avere qua 13 caramelle rare Potremmo portare il nostro Oh Oh Rainbow a livello 100 E ci mancano solo 4 livelli, ne abbiamo nei 4 caramelle rare Ma voglio che questo video spacchi di mi piace Quindi lasciate un mi piace ragazzi, mi raccomando se ancora non l'ete fatto E se facciamo tanti mi piace, non vi dico un numero, se ne facciamo tanti Questo Oh Oh sarà il primo Pokémon speciale a livello 100 Ma dobbiamo attendere ancora un pochino Perché io... chi è che mi sta spingendo? Oh! Garchomp! Fermi, 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 facciamo così Potenziamo il nostro Solgaleo Lucente Che comunque si merita di arrivare almeno a livello 80 Quindi lo alziamo un bel po' di livello Questo Garchomp boss leggendario è assolutamente sfidabile Soprattutto se portiamo il nostro Gyarados Si è attivato anche un ride là in fondo Non so se l'avete visto ragazzi Voglio uscire dalla battaglia Ekans Si è attivato anche un ride là in fondo Dicevo, potenziamo il nostro Gyarados con tutte le caramelle rare che ci mancano Perché io questo Garchomp lo voglio sfidare Perché così livelliamo i nostri Pokémon Garchomp, vieni qua subitissimo Ho un Gyarados da lanciarti contro Anche se abbiamo 55 livelli di differenza Sono tanti Però con idropompa Ah, non ce la facciamo con idropompa Peccato Ma niente, andiamo in campo solo con il Kyogre Andiamo di surf Oh! Questo Garchomp qua è mostruoso È un portento È incredibile Dragon Claw Dovremmo essere super efficaci Ma ci toglie più vita lui Ok, Groudon è rimasto con uno di vita Eh, ok Leggendaria la forza che ha questo Groudon Di una battaglia Però, 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 però Io devo ricaricare la vita del mio Kyogre A questo punto, atto che Groudon l'abbiamo perso Kyogre, per favore Fatti rispettare con un Ice Beam Per favore Ok L'abbiamo eliminato Meno male Ci ha droppato un diamante E una Dynamics Candy Il resto lo possiamo lasciare a terra E con la nostra squadra ufficiale Ora Possiamo andare Ufficiale per questo video Che ce l'ha consigliato Il nostro campione Michele Ma, dicevo Possiamo andare Nella zona Dello Smeraldo Per scoprire cosa si nasconde Perché è buio Non posso vedere nulla Devo andare per forza a dormire Vabbè, dormiamo Non mi ricordo Questa è stata l'ultima volta Che ho dormito nella Pixel Ma dormiamo E ci catapultiamo Ancora qua Non si può vedere Vabbè Eh, però Questa qua dovrebbe essere Tecnicamente La zona Oh, ma ci ha tipato subito sotto Come mai sta cosa? Ok Eh, volevo esplorare la parte sopra Che ovviamente è una Pokéball Ma c'è un Blaziken Ma che cacchio è? Che figo! E questa che versione di Blaziken è? Eh, è bellissimo, eh Per carità È veramente tanto bello Però è un boss ultimate E di conseguenza Ci serve il nostro team Abbiamo quindi un'altra versione Di Pokémon da scoprire Nel episodio di oggi Vediamo Scopriamo, ragazzi Siamo qua per scoprire Tutto quanto ver bene Rilancio il mio Kaiogre Eh, Kaiogre? Ok Kaiogre Primal Contro questa versione di Blaziken Al 150 Pokémon alternativi Ok Va bene Questo Blaziken Comunque Eh, sono doppioni Perché in questo momento Lui identificava la battaglia in sé Questo qui è quello vero in battaglia E... Ok Quindi oggi andremo a vedere Delle versioni alternative Dei Pokémon Con Surf Dovremmo essere super efficaci E infatti lo abbiamo Insta-shot-tato Ma che torterra è? Nei commenti Voi dovete scrivere Quale sarà la vostra versione preferita Ma... Eh... Latia! Si è sponato un leggendario! Vorreste dirmi che questo Latias È nella sua versione alternativa? Chi lo sa? Però ora non posso andare a scoprire Perché sono in battaglia Dannazione Vado di Flare Blitz Che è super efficace Però Ci ha fatto ancora un po' di danno Lì si è ricaricato la vita Vado in un altro Flare Blitz Lo bruciamo Ah, non ce l'abbiamo fatta Oh, mi ha shottato il Charizard No, no, no Ok Sì, mi ha shottato Mi ha shottato il Charizard sotto la terra Che è bello tosto Che ho messo in campo per sbaglio Eternatus Che comunque con un lanciafiamme lo shottiamo Ok Peccato che non possiamo andare a cercare un Latia Ma cos'è questo? È un Arcanine Probabilmente in questo dungeon Ragazzi In questa battaglia Ci sono tante versioni segrete dei Pokémon E questo dungeon è definito alternativo Perché ne ha tante diverse Ok Wow Vabbè Io cosa Cosa ti posso dire? Nulla Perché sono strafelice Che hanno aggiunto questi Pokémon Come vedete anche negli scorsi episodi Però Non so come commentarli Perché sono uno più bello dell'altro Cioè guardate i dettagli Di questo Arcanine Bello 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 Forse questo qui potrebbe essere potenzialmente Insieme a questo Blaziken Uno dei Pokémon alternativi più fighi di questo episodio Arcanine eliminato Typhlosion Questo è Typhlosion Shadow Mi sa Bello 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 Però Io Max Io vedo dare il mio Kyogre Che mi serve assolutamente E che quasi quasi lo metto anche in campo Quindi Kyogre Primal Torna da noi Ci ha tolto tanto Ma io con Surf Doverei fargli più danno Kyogre resist Non abbiamo fatto nulla Ah ok Meno male Meno male Meno male Ok Kyogre Ok Ci siamo Infernape Una nuova versione di Infernape Una nuova versione alternativa di Infernape Ma cos'è? Ma è bellissimo Ok Max Potion Curiamo il nostro Kyogre Con Infernape Sarà anche lui super efficace Ma è bello Non so se è più bello di quello Rainbow Secondo me quello Rainbow è un po' più bello di Infernape Però anche questo ha i suoi dettagli molto 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 carini Poi abbiamo Meganium Questo Meganium è spaziale ragazzi Meganium ci shotta ovviamente il Kyogre Io metto in campo il mio Graudon Ma questo Meganium è bello Il petalo qua è spaziale di questo Meganium Fireblast è super efficace Ok Ok gli rimane il 9,3% di vita Però ci shotta il Graudon Vado di Mewtwo che ha una vostra tipo fuoco Ma stiamo scoprendo comunque dei Pokémon assurdi in queste settimane Mewtwo è stato shottato da Meganium Tyranitar Ce la farà resistere con un bel Fireblast C'ha shotta Meganium è fortissimo Però Però sta prendendo danno anche lui A questo punto Sapete cosa faccio io? Io utilizzo uno dei miei ultimi Max Revive sul Graudon E faccio sì che lì prenda danno dalla tempesta di sabbia Chi ci rimane ora come Pokémon da sfidare? Ok Uh Abbiamo finito Abbiamo vinto Prendiamo tutti quanti questi Max Revive E non so perché Ma io ho fatto caso ora Che sott'acqua Non prendo Diciamo Non finisco mai l'ossigeno Però c'è un Blaziken qua davanti All'85 Facciamo così Prendiamo la squadra del campioncino di oggi Uno Due Tre E quattro Però Poi in realtà Primal Gros e nei Kyogre In squadra ci devono rimanere E andiamo a sfidare questo Blaziken Che comunque è all'85 Ed è un Pokémon forte Vado di Geridos Anche se in realtà Tipo acqua così Non è che vada proprio tanto tanto bene Ma comunque siamo entrambi all'85 Posso fargli un bel crunch Che un po' di danno magari lo può fare Anche se poco in realtà Vado a questo punto di Hurricane Almeno gli facciamo un po' più di danno Hurricane 2,9% di vita Abbiamo rischiato un sacco Ultra Ball Ultra Ball su questo Blaziken Sono curiosissimo di catturarlo Vai Tre giri Quattro giri Presa primo colpo Abbiamo preso il primo Pokémon alternativo Della serie Eh ragazzi Stiamo facendo scoperte assurde E chissà quanti altri ce ne saranno Ma che figo Ma abbiamo Boh Un'infinità di Pokémon spaziali Da catturare Altri dungeon da scoprire E tante altre novità Che arriveranno da qui in avanti Noi Campioncini però Ci fermiamo qua Nel prossimo episodio Andremo ad analizzare Tutti quanti i Pokémon Che stiamo catturando speciali Per vedere quali sono belli E quali sarà Quale sarà la prima squadra Di Pokémon speciali Ciao Ciao